Si sfalda il gruppo del Movimento 5 Stelle, Paola Cardelli passa al gruppo misto e lancia accuse. Non posso consentire di essere accomunata con fascistelli, letterati e fanatici squadristi. Con queste parole la consigliera Paola Cardelli lascia il Movimento 5 Stelle, ma non il Consiglio Comunale di Teramo, dove darà vita ad un gruppo misto di minoranza. Questo è il comunicato che annuncia la mia irrevocabile uscita dall'M5S. Con il presente comunicato annuncio la mia irrevocabile uscita dal Movimento 5 Stelle a causa di ulteriori gravissimi episodi che mi costringono purtroppo ad abbandonare un progetto intrapreso e condotto con profonda convinzione e determinazione. Ho profuso tutto il mio impegno nel tentare di portare avanti una situazione rivelatasi oggettivamente insostenibile per chiunque. Ma la misura è colma. Non posso consentire oltre di essere accomunata con certi individui dediti alle menzogne, agli intrighi ai sotterfugi, autori di azioni immorali, se non illecite, che mettono a repentaglio la mia reputazione e la mia onorabilità. Ovunque nel Movimento, a fianco di bravissime ed onestissime persone, prosperano e si moltiplicano opportunisti, che hanno creduto di trovare in esso e troppo spesso l'hanno trovata, una via facile per risollevare le proprie condizioni, fascistelli illetterati, fanatici squadristi. In troppi hanno scambiato l'uno vale uno come licenza al singolo, chiunque esso sia, di fare i propri comodi e di agire senza freno alcuno a seconda dei propri umori, pulsioni ed interessi. Secondo i principi del Movimento 5 Stelle, chi viene eletto secondo quel marchio e quel simbolo, una volta che non si riconosca più in questo simbolo, dovrebbe lasciare comunque la carica istituzionale che è stata acquisita proprio in virtù di questo simbolo. E' ovvio che noi vogliamo ribadire anche che le affermazioni fatte dalla consigliera sicuramente non si riferiscono al gruppo Movimento 5 Stelle che segue il consigliere comunale, perché appunto questo gruppo è fatto di tutte persone serie, oneste e trasparenti e quindi sicuramente penso che si riferisca a dei dissidi avuti con altre persone, i cosiddetti dissidenti, che si identificano adesso con Claudio della Figliola. Tale Claudio della Figliola si autoproclama portavoce dal nostro punto di vista avendo avuto solo quattro voti senza aver pubblicato nessun verbale di nessuna assemblea, quindi nella più totale assenza di trasparenza. Era nell'aria da tempo, noi l'abbiamo sfiduciata in tempi non sospetti perché sapevamo che non rappresentava il Movimento 5 Stelle Teramo. Il Movimento 5 Stelle Teramo il 29 di ottobre ha sfiduciato anche Fabio Berardini, l'ha sfiduciato con 20 persone. c'è un verbale allegato per cui il signor Berardini continua a dire, diciamo bugie, si può dire politicamente bugie. Lo fa nel suo comportamento politico e lo fa anche nei confronti di attivisti che lo hanno portato dove lui in questo momento è. Questo gruppo di attivisti non sono in sei, ma ne sono più di 20 e non sono dissidenti. Questa è l'unica cosa su cui voglio mettere un punto, i dissidenti sono altri e stanno uscendo dal Movimento. La questione della sfiducia sollevata dal famigerato nuovo portavoce della Figliola è una bufala, in quanto questa persona non ha alcun diritto e titolo per parlare a nome del Movimento 5 Stelle. Gli unici titolati a parlare sono i consiglieri comunali eletti, come più volte ribadito anche da Beppe Grillo. Fabio Berardini non rappresenta il Movimento 5 Stelle Teramo. Se non legge i verbali può andare sul blog di Teramo 5 Stelle, troverà il verbale dove ci sono le firme degli attivisti e i voti online per la sua sfiducia. Ovunque nel Movimento, a fianco di bravissime ed onestissime persone, prosperano e si moltiplicano opportunisti, che hanno creduto di trovare in esso e troppo spesso l'hanno trovata, una via facile per risollevare le proprie condizioni. Fascistelli illetterati, fanatici squadristi. Rappresentanti del Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato non sono liberi di dire quello che vogliono? No, sono liberi di dire quel che vogliono fino a un certo punto, è una libertà condizionata. Ovviamente sono persone che vengono dal nulla e si sono per lo più, andiamo a vedere le dichiarazioni dei redditi, arricchite con la politica, anche se hanno lo stipendio tagliato, ma comunque ho avuto una polemica con il vicepresidente della Camera di Maio che si prende circa 6 mila euro alla fine, al mese. Non sono pochi, avevo conoscenti che non avevano i soldi per pagarsi la bolletta della luce e che sono arrivati in Parlamento. Legittimo, io credo che anche la gente del popolo debba poter avere accesso al Parlamento, però prima molti di loro erano critici già con Casaleggio, adesso che sono là fanno i talebani perché hanno segretarie, soldi e la fama. Cioè sta dicendo che quelli che sono in Parlamento sono lì per i soldi, seppure decurtati, loro dicono ci teniamo quanto? Credo 2.500 euro e non tutto. Beh, i soldi sono un fattore importante, se no non avrebbero avuto tutte quelle questioni sugli scontrini. Oggi noi non sappiamo effettivamente quanto spendono dalla diaria, potrebbero tranquillamente farci la cresta, pagarsi le cravate, la colf, come qualcuno mi racconta, senza che i cittadini che controllano la rete possano saperlo, perché i giustificativi non ci sono. Il tema dei soldi è importante perché il Movimento 5 Stelle non ha creato una nuova classe dirigente. Cioè lei sta dicendo che non c'è trasparenza in realtà sui soldi gestiti dal Movimento 5 Stelle e dai parlamentari? Assolutamente, ma se si va sul sito www.tirendiconto.it, che è quello che loro usano per far vedere che ridanno i soldi, uno ci può andare in temporale attraverso internet, si accorge che ci sono delle voci generiche senza giustificativi e che poi c'è una voce che si chiama altro, che è molto alta per molti parlamentari, anche talebani, e non si capisce cosa ci stia dentro. Ovviamente sono persone che vengono dal nulla e si sono per lo più, andiamo a vedere le dichiarazioni di erediti, arricchite con la politica.